Amici e amiche, buongiorno. Fratelli e sorelle, anche per voi un buongiorno. Il Signore possa illuminare le nostre menti nello studio che faremo quest'oggi. Ma prima di andare avanti nella lettura dell'introduzione, vorrei pregare con voi il nostro Signore. Vi prego di stare in raccoglimento. O Signore, è nel nome di Cristo che ci presentiamo ancora una volta davanti a Te. Illumina le nostre menti e fa che possiamo comprendere tutto quello che Tu ci vorrei trasmettere attraverso i Tuoi servitori. Nel nome di Gesù, Ti chiediamo ogni cosa. Leggiamo l'introduzione per la lezione che ci viene data quest'oggi. Il Salvatore ora volge il suo sguardo verso il futuro. Scorge i campi più vasti in cui dopo la sua morte i discepoli avrebbero testimoniato. Il suo sguardo profettico coglie l'esperienza dei suoi collaboratori attraverso i secoli sino al suo ritorno. Indica le lotte che incontreranno, dice loro come dovranno comportarsi, segnale i pericoli che dovranno affrontare e le rinunce richieste. Vuole che conoscono il prezzo della fedeltà in modo che il nemico non li colga impreparati. Non è contro la carne e il sangue che dovranno lottare, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Nella lotta contro le forze soprannaturali possono però fare affidamento su un aiuto divino. Bene, due parole vorrei spenderle su questo. Tutto quello che noi andremo a studiare nella parola di Dio, nello studio personale della parola di Dio, noi troviamo il comportamento che dobbiamo tenere nei confronti del nostro Dio e anche nei confronti del nostro grande nemico. Il Signore ci mette in guardia su tutto, ci mette in guardia e ci dà anche gli strumenti per poterli affrontare tranquillamente. Ma passiamo adesso al sottotitolo Il piano del nemico. La domanda numero uno ci chiede in che modo il nemico tenta di intrappolare i figli di Dio? Come possono proteggersi? intanto leggiamo i versetti che ci vengono dati. In Genesi, in Giovanni, in Colossese e in Luca. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna, a Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? In Giovanni dice, voi siete del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu un omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso parla del suo perché è bugiardo e parla è padre della menzogna. Colossese dice, perseverate nella preghiera vegliando in essa con ringraziamento. E in Luca, vegliate dunque pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Bene, in che modo il nemico tenta di intrappolare i figli di Dio? Attraverso la menzogna, attraverso la presentazione di quelle cose che ci allontanano dal nostro Signore. Noi siamo i soldati di Cristo e il soldato ha delle regole a cui deve obbedire. La prima regola è conoscere che cosa vuole il suo generale, in questo caso il nostro Signore Gesù. La seconda regola è l'obbedienza a ciò che il Signore desidera da parte dei Suoi soldati. E terzo, impugnare la spada dello Spirito, quella che noi abbiamo precedentemente studiato. Avere la spada dello Spirito significa conoscere la parola di Dio e metterla in pratica nella nostra vita. In questo modo noi riusciremo a sconfiggere le forze del male. È vero che la nostra sola forza non è in grado di poter controbattere. Però non dobbiamo dimenticare che il nostro Dio è sempre al nostro fianco. Il nostro generale ci sta sempre vicino e quindi abbiamo la possibilità di vincere. La seconda domanda ci chiede, visto che i figli di Dio sono l'obiettivo speciale di Satana, quale incoraggiamento impartisce loro l'Apostolo? Leggiamo in Primo Corinzi al capitolo 10, versetto 13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. In Primo Corinzi al capitolo 1, versetto 8 e 9 dice, il quale vi confermerà fino alla fine affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo, fedele Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Bene, in questi due versetti noi praticamente abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo la certezza che il nostro Signore ci sosterrà in tutte le prove in cui andremo incontro. Abbiamo la certezza che il Signore è fedele e non ci abbandonerà al nostro destino. È vero, il nostro nemico ci vaglierà come si vaglia il grano. Però noi, se siamo soldati fedeli, che cosa faremo? Rimarremo fermi nella fede, rimarremo fermi nell'obbedienza al nostro Generale. Tutte le situazioni difficili possono essere da noi affrontati, con la sicurezza che il nostro Signore ci metterà in condizione di vincere. Passiamo alla terza domanda. Cosa dovresti chiedere come soldato del Signore per far fronte alle tue responsabilità? Leggiamo alcuni versetti, sia in Giacomo, sia nei salmi. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare e gli sarà data. Insegnami giusto discernimento e conoscenza, perché credo nei tuoi comandamenti. E infine nel Salmo 51, o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. L'uomo molto spesso, quando pensa di essere sapiente da se stesso, sbaglia. Ma se noi chiediamo la sapienza a Dio, Egli ce la concederà gratuitamente e velocemente. E ci insegnerà anche a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ma questo deve essere, diciamo, il desiderio del cristiano, quello di riconoscere ciò che è bene da ciò che è male. E una preghiera, una preghiera veramente eccezionale sarebbe quella di chiedere al Signore, concedimi un cuore puro. Avere un cuore puro significa avere Cristo dentro di sé, avere Cristo nella propria vita. La quarta domanda ci chiede qual è la chiave del successo per ogni soldato? Giacomo 1, 22, 25. E siate facitori della parola, non uditori soltanto, ingannando voi stessi, ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore addimentichevole, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. E in 1 Giovanni, al capitolo 5, versetto 3 e 4, leggiamo. Bene, noi ci siamo arrolati volontariamente nell'esercito di Dio, ma per obbedire alla Sua parola, per essere fedeli al nostro generale, dobbiamo essere leali. Dobbiamo essere leali non solo con Lui, ma anche con noi stessi. Molte volte noi possiamo correre il rischio di presentare il male e renderlo come se fosse un qualcosa di giusto. Ma abbiamo soltanto una possibilità per riconoscerlo, confrontarlo con i comandamenti divini. Se noi confrontiamo i comandamenti di Dio col nostro modo di pensare, a volte ci rendiamo conto che stiamo sbagliando. Ed è quello che noi dobbiamo pensare di fare regolarmente tutti i giorni della nostra vita. Intanto passiamo alla quinta domanda, che ci chiede, attraverso gli occhi della fede, cosa possiamo vedere intorno a noi? Il Salmo 34,7 dice, l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. E in seconda re al capitolo 16, versetto 16, dice, egli rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Bene, questo è un esempio che vorrei ricordare a tutti quanti noi, perché è particolarmente importante. È il fatto che il servitore di Elia non si era reso conto che quelli che circondavano la città, che erano degli assiri, se ricordo bene, non erano così tanti come pensava il suo servitore che fossero. Il profeta prega perché Giazzi apre gli occhi. Cosa vede? Vede intorno a sé un esercito sterminato di angeli che stavano lì per proteggere sia il profeta sia coloro i quali abitavano nella città. Ma questo esempio è soltanto per dirci che il Signore manda i Suoi angeli per proteggerci da ogni male. Non permetterà mai al nostro nemico di prendere il sopravvento. Noi possiamo avere molte debolezze, possiamo commettere molti errori, però abbiamo sempre a disposizione il perdono da parte di Dio. E ciò possiamo soltanto chiederlo nel momento in cui conosciamo che cosa Lui desidera dai Suoi servitori, l'obbedienza ai Suoi comandamenti. Passiamo adesso alla sesta domanda che dice, secondo il piano di Dio il suo popolo è chiamato ad andare ad evangelizzare. Qual è perciò la responsabilità di ogni soldato cristiano nei confronti degli errori del nemico? Leggiamo intanto Romani al capitolo 10, il 9, il 13 e il 14 versetto. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheremo colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui il quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E ancora in 2 Timotio al capitolo 4, versetto 2 al versetto 5. Predica la parola, insisti a tempo e fuori tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire, si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle farlo. Ma tu sii vigilante e in ogni cosa sopporta le sofferenze, fai l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Questi due brani che abbiamo letto sia in Romano sia in Timodio ci presentano in una maniera chiara la volontà del nostro Signore. Noi abbiamo il dovere di evangelizzare, il dovere di far conoscere al nostro prossimo qual è la volontà di Dio. Se loro non l'ascoltano, se loro non la conoscono, non potranno andare a Lui. Quindi noi, come soldati di Cristo, abbiamo il dovere di farla conoscere. Dobbiamo anche ricordarci anche un'altra cosa. Colui il quale fa questa attività non la chiamo un lavoro, perché non è un lavoro, è un piacere servire il Signore. Andare a servire il Signore e far conoscere la Sua parola al nostro prossimo è qualcosa di molto bello. È un qualcosa che tutti noi dovremmo sentire dentro il nostro cuore. Ebbene, coloro i quali fanno questo avranno dei problemi, ma sono dei problemi che verranno creati dal nemico, non sicuramente da parte di Dio, e riceveranno da Lui quel necessario supporto affinché possano superare questo problema. Noi dobbiamo soltanto ricordare una cosa, presentare la Sua parola in una maniera oggettiva e non entrare in polemica con nessuno. Ci sono molte religioni nel nostro mondo e ognuna di esse pensa di essere nel giusto. Ma è vero, noi abbiamo il dovere di presentare la parola di Dio così com'è, senza polemizzare con nessuno. E questo ci renderà anche non solo più forti, ma permetterà alle persone di ascoltare con più interesse. Passiamo adesso alla settima domanda. Come useranno la spada dello Spirito, la parola di Dio per salvare anime, non perderle e ottenere gli stessi risultati manifestati durante la Pentecoste? Leggiamo in prima Pietro al capitolo 3, il versetto 15 e 16. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazioni della speranza che è in voi con mansuetudine e timore, avendo una buona coscienza affinché, quando vi accusano di essere dei malfattori, vengono svergognati coloro che calugnano la vostra buona condotta in Cristo. In seconda Timotio al capitolo 2, versetto 24, 25 e 26 leggiamo. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in sé stessi, escono dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Bene, la verità deve essere presentata con forza. Deve essere presentata perché il soldato di Cristo ha l'appoggio dello Spirito di Dio. E quando noi entriamo in contatto con delle persone che anche vogliono contrastare la sua parola, dobbiamo rispondere sempre con mansuetudine, con semplicità, con amore. Perché se noi non abbiamo amore verso il nostro prossimo, sicuramente la pazienza fuggirà da noi e non saremo pazienti come dovremmo essere e non riusciremo così a presentare la parola di Dio. Noi come strumenti di Dio dobbiamo essere plasmati da Lui, dobbiamo essere diretti da Lui e la sapienza che noi dobbiamo dimostrare non è una nostra sapienza che ci siamo acquisiti nella nostra vita, ma è la sapienza che il Signore ci concede. Bisogna essere anche mansueti e presentare la sua parola sempre senza nessun taglio, nessun motivo per non dire la verità. Non illudiamoci, da soli non riusciremo a farlo. E questo ci deve far comprendere che noi quando predichiamo, quando cerchiamo di far conoscere la parola di Dio agli altri, avremo sempre accanto lo Spirito di Dio. Il servitore di Cristo sarà sempre mansueto, avveduto, prudente nel suo comportamento. Però starà sempre continuamente in guardia, perché non può assolutamente abbassare la guardia in quanto il nemico potrebbe colpire senza che la persona se ne renda conto immediatamente. Ricordiamoci, il Signore collaboro con i Suoi servitori. Noi dobbiamo far di tutto affinché ciò possa essere una realtà nella nostra vita. Bene, abbiamo concluso la nostra lezione e vorrei ringraziarvi per avermi seguito e nello stesso tempo vorrei invitarvi alla prossima lezione che verrà tenuta tra non molto. Il Signore possa benedirvi e possa illuminare le nostre menti. Adesso vorrei anche ricordarvi, se avete delle domande da fare, di scrivere a infochiocciolavventismo.com affinché possiate ricevere le risposte che voi desiderate. Il Signore vi possa benedire, vi possa guidare e possa renderci a tutti quanti quella sapienza, quella conoscenza di cui tutti quanti abbiamo bisogno e in particolare il suo Santo Spirito perché possa essere insieme a noi. A presto. Il Signore vi benedica.